La città ha scelto, avremo un palazzetto dello sport, lo ha annunciato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che ha spiegato. Si è svolta in aula a consigliare una riunione per discutere di attività sportive e delle iniziative future da intraprendere in questo settore. Ho comunicato la volontà di realizzare un impianto natatorio nell'ambito del programma integrato Piazza Grande. Le associazioni presenti hanno colto l'occasione per spiegare l'esigenza di dotare la città di un impianto polifunzionale, abbiamo deciso di accogliere favorevolmente la loro proposta presentando una formale richiesta alla società Piazza Grande SRL per rivedere quanto convenuto precedentemente. L'azienda ha accettato e ha tempestivamente depositato un progetto di massima. Nella nuova struttura si potranno praticare su campi regolamentari, basket, calcio a 5 e volley, oltre a ginnastica artistica, arti marziali, scherma, pallamano, la boxe e tutte quelle competizioni che possono essere svolte indoor, ha concluso il sindaco Grando. Nella nuova struttura si potranno praticare su campi regolamentari, schermini, 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 schermini. Nella nuova struttura si potranno praticare su campi regolamentari, schermini, 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 schermini.